Musica Allora a tutti i minutori, sono sempre io il vostro amico Federic e bentornati su Pokémon Ultrasole Ultralock Randomizer per questo nuovo episodio di serie Oggi dobbiamo andare ad affrontare la prova di Suiren, ovvero la primissima prova di questa nuova isola Ragazzi nel precedente episodio abbiamo catturato Eevee, ancora non è ufficiale del team perché prima di ufficializzarlo vorrei scoprire la sua evoluzione Quindi nel prossimo episodio probabilmente lo faremo evolvere, oggi però abbiamo da affrontare una prova molto importante perché come avete visto tutte le prove sono super difficili Nell'ultima ci hanno mandato un Iron Shizor quindi stiamo molto attenti a quello che ci possono mandare Allora se non sbaglio qui ad Ovest ci dovrebbero essere sia due tipi da sfidare per l'appunto ma anche il centro Pokémon Quindi battiamo loro, ci andiamo a curare la squadra, dopodiché andiamo ad affrontare la prova E facciamo anche una nuova cattura perché in questo percorso e anche durante la prova di Suiren possiamo fare ben due catture Un bel episodio ci aspetta, voi come sempre supportatelo con tanti pollicini in su, commenti e iscrizioni e possiamo partire Via, allora Silio e Noctowl Allora, io sicuramente ho una paura bestia a lasciare Kanga Junior ma anche Legolas perché quel Silio Allora Facciamo uno Erbapatto su Silio Mentre Kanga Junior tu ti ritiri e per sicurezza ragazzi mando proprio Celebi che ricordo non è ufficiale Ma ci può salvare e può fare un bel gelopugno a Noctowl che è super efficace Quindi vediamo un po' Erbapatto quanto riesce a fare Uno Shotta, peccato Non gli fa troppo Tenaglia, meno male ragazzi che l'ha schivata Perché Tenaglia ci avrebbe fatto male probabilmente Mentre tu Ercelebi ci fai un gelopugno su quel Noctowl E la partita dovrebbe essere definitivamente chiusa Ricordo che in squadra abbiamo l'uovo E vabbè non l'ha shottato, vabbè Andiamo nel centro Pokémon, depositiamo l'uovo e ci riprendiamo in squadra magari Nidoking Perché contro la prova è sempre meglio avere qualche Pokémon in più sacrificabile Non si sa mai ragazzi, veramente Ok livello 22, perfetto Attaccalite Ok nessun problema Ora tu ci vai di un Beccata Che è l'unica mossa che può levarne qualcosa E tu invece ci vai di un altro gelopugno Perfetto ragazzi Questa mossa ghiaccio è sempre più utile 411 punti esperienze che vengono condivisi E Ivi sale a livello 17 Vorrebbe imparare il doppio colpo Assolutamente no Doppio colpo Barahonda Assolutamente no Ursula e Tiberio Perfetto ragazzi abbiamo fatto fuori questi due allenatori Andiamo al centro Pokémon Magari vediamo se vendono qualcosa di particolare che gli altri market non avevano Andiamo qua dentro e scopriamo un attimo Abbastanza veloce Andiamo qua Tu cosa mi vendi? Credo ragazzi che ho bisogno di super pozioni sapete? Ne ho 9 Arriviamo a 10 non si sa mai Poi mi prenderei dei cura totale ma non ce li hanno Repellenti me ne prendo un po' Per non incontrare Pokémon ogni secondo Va ragazzi per il resto Ho tutto Prendo un po' di Mega Ball Menti che c'è qualche Pokémon forte da catturare Vediamo di qua lui cosa ci vende Ricordo che hanno sempre cose diverse Quindi Velux Ball Gleilite Fossil Pin Stelixite Oh Figa la Stelixite Perché comunque non posso farlo mega evolvere Però Figa la Stelixite Ce la prendiamo per quando sarà Ok Tanto è gratis Posso comprarne quante ne voglio Palloncino Uh Sono delle cose veramente interessanti Eh ragazzi Io un palloncino lo prenderei Quasi quasi Va bene dai Per non sprecare 4.000 dollari Poche dollari scusate Attenderò Va bene Magari mi segno che in questo centro Pokémon lo vendono E posso sempre ritornare a prenderlo Ok Curiamoci la squadra E andiamo a depositare questo Uovo 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 Quindi andiamo qua Ok Uovo resta qua Questi sono un po' i Pokémon ragazzi Che abbiamo nel PC come riserve A parte Polithod Che vabbè è morto Quindi Polithod tu Starai nel box 8 Perché sei crepato E speriamo che Suire Non abbia Pokémon troppo forti ragazzi Perché L'ultima cosa che voglio È che mi muoia qualcuno Soprattutto in questa Parte di serie In cui Non ho tutto il team completo Ho soltanto 3 Pokémon ufficiali Quindi Collina scrosciante Ok Qui possiamo fare una nuova cattura ragazzi Ma ricordo che potremo farla Soltanto al termine della prova Ciao Io sono il capitano Suiren Presiedo A questo Incantevole luogo La collina scrosciante Vedo che sta facendo il giro delle isole Vuoi affrontare la mia prova? Certo E inizia La prova di Suiren Benissimo Allora ti spiego In cosa consiste esattamente Devi sapere Che la collina scrosciante È abitata da alcuni Pokémon Beh è inutile fare i misteriosi Si trasta di Wishiwashi Se riuscirai a spingermi nel bacino Che c'è in fondo alla collina Invocheremo il Pokémon dominante Ovviamente Non ti chiedo di affrontare la prova di nuoto Questo splendido regalo Ti sarà d'aiuto Oh ragazzi Adesso ci ha dato Il Pokémon passaggio Di Lapras Che ci permetterà di andare nell'acqua Tanta tanta roba Ora possiamo andare Seguimi Oh ragazzi Sono in hype Vediamo Medio Phoenix Cosa ci ha riservato In questa Prova di Suiren Decimo episodio della serie Ok ricordo che qua la cattura adesso non vale Perché prima dobbiamo finire la prova Quindi Possiamo scegliere effettivamente Se andare a catturare un Pokémon Nell'acqua Oppure in quell'erba là Questi ragazzi sono I Pokémon Per l'appunto Almeno in uno dei due Si nasconde Wishiwashi Saliamo in gruppo a Lapras E scopriamo un po' di cosa si tratta Quindi Vai Let's go Vai Lapras Piano 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 Così ragazzi andiamo un po' più veloci Vediamo un po' di che Pokémon si tratta Ricordo che sono Randomizzati quindi Vediamo un po' cosa ci attende Sudo vudo Ok Pokémon debole all'acqua Possiamo fargli anche effettivamente Un Uno sveglio pacca Tranquillamente Non è che ci servono per forza mosse acqua Protezione Si protegge per questo turno Ma non credo che ci vada di doppia protect Tanto è proprio un albero Cioè sta fermo ragazzi È fantastico Pam Ok Non riusciamo a farlo fuori Attenzione Psico Zanna Andiamoci ancora di sveglio pacca E abbiamo fatto fuori Sudo vudo No Un'altra protect Malefico proprio Cattivo questo Sudo vudo Andiamoci di un'altra Sveglio pacca Eh Volevi doppia protect Invece no Ti prendo a schiaffoni E si siede e muore Così nell'acqua Rip Rip piccolo Sudo vudo Bene Bene il primo ragazzo È stato fatto fuori Oh La situazione si fa grigia Sei proprio bravo Continua a spingere i wishy-washy A balle Sta andando benissimo Tra l'altro ci sono anche degli allenatori E anche delle ball da raccogliere qua Quindi Noo che bello Meloetta Nell'altra sua forma Tra l'altro Meloetta Meloetta Se non sbaglio Questa dovrebbe essere La sua forma danza Che dovrebbe essere Normale lotta Quindi che io gli faccia beccata Sveglio pacca Facciamo beccata Che la sua mossa stabbata Finta Eh no Eh no però eh Fallo fuori Ehi Meloetta Vai giù per favore Che sei pericolosa Attenzione a morso Tentegniamo Non può agire Beccata Finta ancora Beccata Ok Morta Morta Bella la forma danza Di Meloetta Mi piace tantissimo ragazzi Kaka Junior Livello 23 Missy Spillo Ma non è che mosse schifose Che mi imparano però eh Eevee livello 18 Eevee ragazzi Continua a salire Selebi livello 23 Sto usando tanto Legolas Ragazzi anche perché Nei prossimi episodi Lo faremo evolvere Ok E adesso Andiamo qua giù Raccogliamo questo strumento Che è un Revitalizzante Cosa inutile Scendiamo Attenzione all'erba E qua c'è su Iren Quindi ragazzi Altri due Pokémon da spingere In realtà possiamo farne Solo uno eh Dipende noi Se becchiamo Quello giusto o meno Io li sfido entrambi Perché comunque I punti esperienza Mi servono Però io proverei A mettere Stilix davanti adesso Tra l'altro Se ho qualcosa in borsa Da assegnare Sarebbe il caso Di farlo adesso Quindi vediamo un po' Se ho qualcosa Allora Sharpa seda Potenza delle mosse normali Ma non ho mosse normali Becca affilato Le mosse di tipo volante Le diamo a Legolas Perché comunque Almeno gli do qualcosa Alta vite Rapide artigli Lo diamo magari A uno lento Che è Kanga Junior Glilite E niente Non abbiamo magari Un bacca 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 No zero ragazzi Zero A questo punto Niente Si va avanti così Vorrei tenere Stilix davanti Però Un po' paura Però vabbè Almeno giochiamo anche lui eh Perché lo faccio salire di livello Quindi facciamo così Lo spostiamo davanti Perché se no Gioco sempre Legolas E non va bene Ok Vediamo un po' Se è lui Il pokemon Da spingere a valle Oppure no Oh god Celestila Mossa Elettro O Elettro La debole Elettro Sto cosa Se non sbaglio O al fuoco Elettro Fuoco Io ovviamente Non ho queste mosse Con nessuno C'ho re Che potremmo andare O onda calda Con celebi Vabbè ragazzi Mandiamo celebi Con onda calda Dovrebbe essere Se non sbaglio Un per due Il fuoco Ma forse mi sbaglio Non mi ricordo Ma non mi ricordo Perché celestila Non lo vedo Da tantissimo tempo Porca miseria Sono qui Pongo ragazzi Che magari incontri Una volta Poi la seconda Ti scordi anche Chiamai Chiama pure L'aiuto Ma quita Vabbè dai Siamo in tipo Psico Erba Figurati Onda calda Li colpisce anche Entrambi Quindi meglio così Magari li scotta Anche Perfetto proprio Ok Morso Ah Mannaggia Morso Che super Efficace No Questo si aumenta L'attacco speciale Mio dio Onda calda Beh A celestila Gli ha levato Metà vita Mi sa che Maguita Sono sciotta Spero Se non schivasse L'attacco Ok Onda calda Prende entrambi Bellissimo Selebi Quando fa Onda calda Ok E celestila È stata fatta Fuori Bravo Selebi Legolas Livello 27 Re 23 Oh ma che Mosse brutte Che mi volete Imparare Sassata Qua di stampo Schmack Meno male Ragazzi che ho Almeno una Mossa Psico Intanto poi Me la impara Psico Però Era meglio Dagli la prima Ok Era il pokemon Giusto Vero No Era il pokemon Sbagliato Dannazione Devo farlo fuori Ragazzi prima Che chiama Il dominante Ok Meno male Krogan E qua sarebbe perfetto Avere Legolas Per primo Vabbè C'ho E tre lama Con rubi Dai Fallo fuori Fallo fuori Con un colpo Please Sì Bravissimo Steelix Oh ragazzi Ora sì Che riconosco Il mio team Bene così Bravo rubi Bacioni per te Ok Ed era il pokemon Giusto per l'appunto Che adesso Scende a valle E ora che è sceso A valle Noi dobbiamo Scendere ancora più giù Vero Vai ragazzi Ci siamo Pronti per la prova Vai 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 Ah tra l'altro Possiamo usare Il potere di Rotom Vediamo un po' Che potere ha Rotom roll Dai dai Statistiche su Qualcosa su Dai qualcosa di bello Vai Questo che era Acchiappa roll Per i bombo Selvatici Male Malino Ok Guarda laggiù Federic Chi c'è Chi c'è Sei riuscito a invocare Il pokemon dominante Chi sarà mai Questo pokemon dominante Ora Ora ragazzi Vedete Allora sicuro Sarà un pokemon D'acqua Ora non so Chi mi hanno Randomizzato qua Ma io ho seriamente Paura Andiamo a vedere Ok 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 Raga Ora sono super curioso Vediamo Mad Phoenix Cosa mi ha messo Non sarà Wishy Washy Oppure potrebbe essere Un wishy Washy Schinnato E tra l'altro Era Araquanid Nell'originale Vabbè Perché era Ultrasole In sole C'era Wishy Washy In Ultrasole Ultraluna L'hanno cambiato Ok Vediamo un po' Ho paura ragazzo Ho veramente paura Ma cos'è Palchia Raga Mette seriamente Seriamente Paura Fa veramente Paura Questo palchia Di che tipo sarà? Di che tipo sarà? Bella domanda È un casino adesso Raga sto ragionando Sui colori Di palchia È rosso e nero Potrebbe essere Di tipo fuoco O anche di tipo buio Potrebbe essere Di norma Palchia è debole Se non sbaglio Al drago E al folletto Non ne ho la più palida idea Raga Questa volta È veramente complicata Della situazione Guardate che roba È veramente possente E beh Coda drago Ma quanto li levo Con coda drago? Vediamo quanto li leviamo Cazza no Allora ragazzi Facciamo fuori Prima Makuita Perché appunto Vabbè Almeno lui me lo dice Che è debole E lo facciamo fuori subito Così ci leviamo Il dominante Ora Steelix Cascherà nel sonno Ragazzi Non so di che tipo è Potrebbe essere fuoco Quindi proviamo Con idropulsar Però Boh Comete Mossa che tra l'altro Non fallisce mai Allora non è mossa Spaventose Però vediamo Se è di tipo fuoco Confuso Questo è culo Ok raga Se è di tipo fuoco Possiamo mandare dentro Anche Sì sì ok Perfetto Proviamo a mandare dentro Il nostro Legolas E nel prossimo turno Proviamo a far fuori Chirlia Ti prego Fallisci Sì si colpisce da solo Andiamo in borsa E facciamo un Sveglia Al nostro ruby Ho veramente paura Di quel pazienza Dannato pazienza Meglio mandare Nidoking va Che se becca almeno Se lo becca lui Non dovrebbe fargli nulla Vediamo Oh fallisce Very nice Ok A questo punto Mandiamo pokemon Mandiamo ruby Che tra l'altro È unico che può fare L'idropulsar Se Chirlia C'ha solo pazienza In due tre turni Riesco a finire il gioco Ragazzi Riesco a finire la partita Quindi va bene così Ancora sbadiglio Cavolo Ok ragazzi Ammosse ghiaccio Perfette per me Alla Proviamo a riconfondere Questo palchia E a farlo fuori Magari così Che non chiama un altro Pokemon in aiuto Sbadiglio Ma fallisce Idropulsar Lo facciamo fuori Mai nella vita E ora dormiamo di nuovo I ragazzi Sto finendo le sveglie Acceleratore Aumenta la velocità Quindi dato che adesso Siamo un po' più veloci Possiamo provare a svegliarci Ma un turno Se lo dorme sicuro Che bella la musica sotto Pazienza Oddio Dobbiamo fare fuori quello Ragazzi E dorme ancora Borsa Eh ragazzi Non posso svegliarmi Non posso svegliarmi proprio Oddio Oddio Che palle Non avere le sveglie Quel cosa è carichissimo Comete Ah fallisce ancora Quando libera l'energia Meno male ragazzi Meno male Oh ma sto Stilix Dorme per tutta la partita Ma non è possibile Raga Continua a dormire Ma dai però Basta dormire Ragazzi Sono costretto a far così Finché non si sveglia Poi comete Non fallisce mai Se questo non si sveglia Però Maledetto palchia Con sbadiglio Ma ti odio Pazienza Ancora Quello Si fa di pazienza Dai ragazzi Se non si sveglia adesso Sono cinque turni Che dorme Cioè Questo si cambia Le abilità Con Va bene Dai ti devi svegliare Adesso eh Ma è stufato Ti devi svegliare Basta No non ci credo Dai Svegliati Sono cinque turni Che dormi Madonna Raga Però eh Però non è possibile Allora Quando tu vai Ad addormentare Il pokemon avversario Cosa succede Lui Si sveglia Il turno dopo Anzi no Tu l'addormenti Si sveglia dopo due secondi Quando ti addormenta Te ti svegli dopo Cinque Sei turni È sempre così Sempre è stato così In pokemon Almeno per quanto riguarda La mia esperienza Oh livello 25 per ruby Mamma mia Ti porta l'esasperazione eh Oh ombra notturna Perfetto Ombra notturna Io levererò event argento Raga pure Ma ombra notturna Non ho mossa spettro Quindi Però levererebbe veramente poco Ombra notturna Sapete In base al livello Livello 24 per re Ora lui libera l'energia Mi farà malissimo Più o meno Sale tutta la squadra Fallo fuori Please Falli un etere lama Falli un nitropulzar Qualsiasi cosa Siamo più veloci ovviamente Presa Minchia mi fai male Mi dicono eh E ragazzi Abbiamo battuto Anche il pokemon Alleato di support Del pokemon dominante La prova è stata Completata Vittoria Abbastanza sudata Devo dire la verità Oh bravo Stilix Si Perfetto Raga Sono contentissimo Torna Il ciel sereno Su Alola Su Iren Ci fa il segno Di ritornare Alla riva E adesso Ovviamente Ci consegnerà Il cristallo Z Di tipo acqua Eccolo qua Guardate quanto è bellino Olè Nuovo cristallo Z Prova completata Perfetto Ad hoc ragazzi Ad hoc Tranquilli adesso Tranquilli Ti mostro come si usa Ecco questa è la posa Vada Yeshama 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 È come un'onda Perfetto Ci dà anche Lamo per pescare Ovviamente E prima di terminare L'episodio Andrei a fare Una bella cattura Qui Quindi Facciamo una bella cattura Ragazzi Ci dà anche 10 subbol Hai pescato Un geritos rosso Io l'ho pescato Sicuro al 100% No non mi accompagnare Grazie perché Devo fare la cattura In questo percorso Quindi ragazzi Dato che comunque Non ha già una bella scorta Nel pc Se non dovessi trovare Nulla qui Salto direttamente La cattura Vediamo un po' Ne approfitterei Qua che c'è Della bella erbetta Se non sbaglio Senza che Vado a pescare Ragazzi Non ha Non ha senso Vabbè Non la sono voluta Rischiare Primo pokemon Di questo percorso È un Oh E la Madonna Che brutto Che brutto Che brutto Che brutto No salto Direttamente Salto direttamente Veramente Uno schifo Peccato Veramente Un peccato Eh vabbè Forse era meglio Andare nell'erba Vediamo nell'erba Che pokemon Si nascondono Giusto per sfizio Tanto Dalle regole Della serie Non posso catturare Il secondo pokemon Che incontro Quindi Eh Ragazzi Era pure shiny No Che sfiga Tra l'altro È il primo pokemon Shiny Che incontriamo Della serie Oh Shelgon Peccato raga Peccato Eh vabbè Siamo costretti però A fuggire Perché le regole Sono le regole Ricordo Che le trovate qua sotto In descrizione Tutte le regole Della serie E noi ci vediamo Al prossimo episodio Dove andremo poi Nell'altro percorso E faremo evolvere Eevee Così che lo ufficializziamo Oppure no Da fedeli è tutto E noi ci vediamo Al prossimo video Di pokemon Ultra sole Ultra randomizer Ciao allenatori Ciao a tutti Iscriviti